Non solo Beckham e Balotelli, anche il nazionale olandese stella dell'Hamburgo, Raphael van der Fart, conquista i titoli dei giornali per il suo divorzio dalla moglie Sylvie, star della televisione tedesca. I due erano considerati i Beckham di Hamburgo. Il giocatore è accusato di aver rapicchiato la moglie a Capodanno durante il veglione.